A Torino a guardare più lontano e più in alto Primo giorno del Torino Jazz Festival subito due appuntamenti di rilievo il primo con l'ensemble del Mingus Dynasty nel pomeriggio e il secondo con Enrico Rava in l'Orchestra del Teatro Regio di Torino alle 21 in Piazza Castello L'ensemble del Mingus Dynasty, il gruppo di musicisti che la moglie di Mingus riunì per celebrarne la memoria, sfida il maltempo calamitando spettatori in Piazzale Valdofusi, in programma brani del contrapassista, pianista e compositore statunitense il genio pazzo dell'Arizona è uno dei primi versi del Torino Jazz Festival cominciato oggi c'era anche il sindaco Fassini di inaugurarlo in tarda mattinata nella sede operativa di Piazza Palazzo di Città e l'artistico Stefano Zegni è declicorata naturalmente chiesa